Italia, patria di grandi geni e questo è un po' il tema del carro. Oggi ci ritroviamo i geni di Salvini e Di Maio e i due quadri costituenti, quelli che ci hanno portato a far parte della Fondazione dell'Europa, quindi De Gasperi e Spinelli, si rigirano un po' nella tomba quando danno un'occhiata a questa Italia così ridotta. Comunque Salvini e Di Maio sentiranno di indossare questo tono da grandi geni e forse riusciranno a sbrigliare la matassa dei problemi che avvolgano l'Italia. Quest'anno abbiamo voluto rivoluzionare il carro, abbiamo due personaggi grandi sul pantografo principale, abbiamo dei movimenti sia manuali che a motore. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!